ma a proposito di cinema horror e di tematiche orrorifiche è successo di nuovo qua potrei tirare fuori di questa cosa no sono un po' stanca sono un po' stanca devo dire no io allora prego perché sei stanca? no sono stanca di essere delusa dal mondo e non stiamo parlando delle elezioni no non stiamo parlando delle elezioni allora cosa siamo andati a vedere? entrambi devo dire in proiezioni diverse ma siamo riusciti a vederlo entrambi sto parlando del film della figlia di M. Night Shyamalan che io avevo capito essere film nuovo di Shyamalan ovviamente perché questi se lo sono venduti in una maniera un po' così e quindi non ho capito male sono caduta nella trappola del marketing sono caduta nella trappola del marketing ma in realtà anche in quel senso anche in quel caso andavo comunque con dei pregiudizi perché non possiamo dire che gli ultimi film di Shyamalan siano stati grandemente soddisfacenti quali sono stati gli ultimi film? io mi ricordo non era ultimissimo però The Village per esempio che è del... 47 è vecchio come il cucco ora te lo dico io quando è 2010 ora dico una cosa a caso no 2004 è ancora più vecchio vabbè che cosa ha fatto ultimamente Shyamalan che... ah vabbè quella serie di... Old Old non era male in effetti infatti non era una sceneggiatura sua veniva da un fumetto allora vedi che niente no no ma continua le hai visti tutti quindi le ho visti tutti sì però non siamo qui per parlare dei film del padre perché poi veramente siamo delle brutte persone la figlia di Shyamalan ovvero Isshana Shyamalan ok Isshana Knight Shyamalan giustamente scusami Isshana Knight Shyamalan ok si è cimentata con la sua prima regia evviva e la sua prima regia è un horror benissimo ora io dico già questo cosa? è un azzardo sei la figlia di Shyamalan per carità magari è il tuo mondo magari ti piace solo Rollor magari pensi di essere particolarmente portata certo devi sicuramente avere sulle spalle dovrai avere sulle spalle il confronto con la filmografia di tuo padre questo mi pare è ovvio purtroppo nel senso che io vorrei che questo non accadesse ma tant'è il film in questione si intitola The Watchers Loro ti guardano Loro ti guardano film che ha come protagonista Dakota Fanning comunque anche una persona di un certo rilievo anche un'attrice brava sì direi brava anche abbastanza adatta a questo genere cioè una che insomma funziona da questo punto di vista non ricordo ovviamente perché sia mai che nella vita io ricordi qualcosa se aveva partecipato a dei film del padre di Shyamalan sì non mi guarda con quella faccia sconvolta no perché parlavi della figlia no Dakota Fanning non mi sembra no non credo però sicuramente il corpo è anche la permanenza di questa attrice nella memoria dello spettatore della spettatrice cioè Dakota Fanning è un'attrice che ha fatto il primo film nel 2001 ma lei è nata nel 94 quando usciva Animal of the State tra l'altro quindi è cresciuta letteralmente professionalmente ma anche il suo corpo è cresciuto davanti alla macchina da presa partecipando a film molto molto noti davanti ai nostri occhi tra l'altro sorella di Elle Fanning se non sbaglio esatto anche lei attrice molto brava anche lei attrice brava e lei è la sorella grande Dakota è più grande Elle è più piccola però nel testo forse questa è una delle cose che lavora meglio ma forse lavora meglio nelle persone che sanno questo retroscena perché dentro a The Watchers c'è una storia di famiglie ah ok ok sto capendo adesso a cosa vuoi fare riferimento ma non lo diremo perché roviniamo un po' tutto comunque fatto sta che la protagonista è Dakota Fanning che è una ragazza diciamo dal che non ha affatti conti come spesso succede col proprio passato perché ha avuto insomma un evento tragico del passato e quindi si porta dietro un gran senso di colpa che non la fa vivere serena diciamo lei lavora in un negozio di animali uccelli animali il capo le dà un compito gli dice guarda c'è questo parlocchetto questo pappagallino che va portato in un'altra città siamo in in un'altra città ero pronto vai 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 che Francesco 47 lo vuole sapere le riprese sono state svolte tra Dublino Wicklow e Galloway Galloway sì e va bene in Irlanda siamo in Irlanda lei deve andare da un'altra parte e portare questo pappagallino per andare da quest'altra parte dell'amaro sì deve attraversare una foresta e foresta che viene raccontato proprio all'inizio diciamo della storia è una foresta particolare dalla quale è molto difficile uscire era giusto sì abbastanza e quindi questa foresta ovviamente ha in sé delle entità questo era abbastanza ovvio delle entità che pescano in un folklore quindi siamo nell'ambito diciamo del folklore diciamo più o meno nel senso che c'è questa branca diciamo dell'horror che tra l'altro ultimamente sta anche avendo abbastanza successo che pesca nelle tradizioni folcloristiche e ovviamente le lavora in maniera orrorifica funziona anche abbastanza perché ovviamente come sappiamo anche con il folklore italiano le radici diciamo culturali spesso sono nere sono molto scure anche le favole hanno una radice molto scura molto spaventosa io sto cercando esattamente qual era l'horror che aveva al centro la fatina dei denti sì vedi che sei non mi ricordo sei preparatissima vabbè fatto sta che questo horror perché The Watchers vi spieghiamo perché poi nel trailer si vede a un certo punto questa ragazza si trova in compagnia di altri tre sfigati come lei che sono in qualche modo bloccati dentro da questa foresta in una casa una casupola che viene definita the coop ovvero il covo e in questo covo c'è una parete trasparente in cui diciamo tipo quelle dei commissariati loro non vedono l'esterno ma l'esterno vede loro esatto e l'esterno vede loro ovvero le creature vogliono avere uno spettacolo e visto che siamo al cinema giù di seconde letture metafore a guardarsi essere guardati vabbè trasformarsi essere trasformati le venti insomma è un film a forma di metaforone io l'ho patito sicuramente non so se meglio o meno di Flavia fatto sta che appunto lei appunto avete sentito anche i muscoli la preparazione la bibliografia che ha tirato fuori Flavia Capone per introdurre questo film mediocre per quanto mi riguarda decisamente mediocre io non sono un amante degli horror ma sono saltato sulla sedia una volta all'inizio un personaggio X che forse ricompare vabbè attraversa questo boscone nel mezzo del cambino di sua vita viene sorpreso da un un corvo un uccello che gli è salta addosso degli uccelli che partono lo lo investono di colpo e vabbè non te lo aspetti e ti spaventi questo è l'unica cosa allora sì paura non fa paura per quanto mi riguarda pochissima paura è davvero si percepisce un'impronta un'estetica alla Shyamalan sicuramente in particolare vi dicevo lo Shyamalan di The Village per esempio che era questo questo film tra l'altro anche con una storia abbastanza simile cioè con una foresta dalla quale provenivano delle creature e poi aveva penso uno dei finali più brutti della storia cioè più deludenti degli orlor che io abbia mai visto cioè che io sono arrivata alla fine ho guardato lo schermo e ho detto perché perché è accaduta questa cosa sì ma quello proprio mi ricordo proprio il finale perché ero quasi contenta dall'inizio poi dopo vabbè insomma la prendi un po' troppo sul personale no non la prendo sul personale perché credo che sia invece una cosa importante e peccato perché comunque avere l'occasione di debuttare forse avrei cercato un'estetica un po' diversa da quella del padre cioè avrei cercato di staccarmi di più ammesso che ne fosse grado e ne fosse capace vediamo che cosa succederà in futuro bisogna dire che dal punto di vista registico è l'esordio alla regia dal punto di vista registico cioè estetico non è neanche male secondo me lei ha lavorato della fotografia non so chi è il direttore o la direttrice della fotografia quello si può anche cioè non è male è Hallie Harrinson ah è una donna vedi non Eli forse vabbè però il discorso è che tutto il film un po' si sfilaccia sulla lunghezza dal punto di vista estetico ci sono alcune idee che vengono sicuramente da qualche esperienza in più del ha fatto il film con il papà però c'è da dire che è la filmografia di Isshana Night Shyamalan 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 l'ho letto male è effettivamente costellata da direzioni di seconda unità dei film di papà quindi possiamo scomodare il termine sgradevole però ovviamente Eli Aronson è un maschio figurati Napo Baby lei ha fatto però la regia della seconda unità sia di The Hold il film che appunto vi raccontavamo all'inizio quello sulla spiaggia sia Knock at the Cabin che in italiano è Bussano la Porta Bussano la Porta oh madre quello con Coso con Battista tu li hai visti tutti Flavia quindi per questo sei estremamente dolore lei è anche la cosceneggiatrice cosceneggiatrice di un adattamento cinematografico The Watchers è l'adattamento cinematografico di The Watchers di I Am Shine è un libro è un libro quindi neanche a dire perché la storia poteva pure essere interessante neanche a dire è quella almeno hai fatto no anche la storia è presa da un libro quindi ragazzi non so che anche The Visit vabbè vedo che il libro anche un un po' deludente io sono un po' delusa un un po' delusa un sequel un prequel ah un proseguimento quindi è al cinema beh il proseguimento ci sta sicuramente perché il finale è aperto allora facciamo così visto che siamo nella settimana di cinema in festa vale 3,50 euro oddio se vi piacciono gli horror potreste fare un tentativo magari per averlo nel nel palmare cioè come si dice negli horror che avete visto perché uno cerca di vederne il più possibile no secondo me non lo so dimmi tu come la collezione di figurine ah così vabbè io invece vi consiglio di andare a vedere il film che no allora meglio meglio The Watchers meglio The Watchers ne parliamo subito dopo gli Smashing Pumpings subito dopo